Uno degli attori principali di questa serata, Winter Wonderland Christmas Party, è Rubinia Gioielli, fortemente voluta da me, dalla redazione di Oggi Sposi, perché in occasione del dicembre 2012 di quest'anno Rubinia ha proposto un'iniziativa molto interessante in collaborazione con Rotary. Siamo qui in compagnia di Roberto Ricci, creativo, mente creativa di Rubinia Gioielli. Parlaci di questa iniziativa. La volontà di fare un progetto con Rotary contro la poliomelite, abbiamo progettato questa goccia di quarzo e di giada rosa, come le gocce che vengono date ai bambini per combattere la poliomelite, è un braccialetto bellissimo, ci piace sempre partecipare alle iniziative di Chiara e di Oggi Sposi.